Certamente ho visto la nota che il Ministro Stolfi mi ha presentato in via ufficiale, prenderò informazioni col Governatore della Banca d'Italia e ovviamente cercheremo di trovare una soluzione che sia al tempo stesso rispettosa delle indagini ma anche che venga incontro a queste esigenze che il Ministro Stolfi mi ha rappresentato di un flusso normale e ordinario di liquidità verso San Marino. Questo evidentemente non c'entra nulla con il più ampio quadro di rapporti tra Italia e San Marino che siamo intenzionati a far andare avanti rapidamente. Sì, ho consegnato al collega Frattini una nota in cui esprimiamo la nostra preoccupazione per quanto è avvenuto e chiediamo di vedere presto una soluzione. Il Ministro è stato molto disponibile, si è fatto carico di questo problema pressante che ho fatto e ho ben sottolineato e ha assicurato un intervento immediato per cui ci aspettiamo nel giro delle prossime ore che si possa vedere un risultato tangibile che possa consentire al nostro sistema bancario e finanziario di stare tranquillo e di continuare ad operare.